abbiamo scoperto chi è il premio gentleman allenatore 2020 2021 Claudio Ranieri e Claudio Ranieri insomma ha vinto tanto tantissimo per non solo premi ma anche soprattutto sul campo considerando la grande impresa dell'ester però visto che ha ricevuto questo premio intitolato a Gigi Simoni ecco penso che la domanda sia quello che c'è di ricordo da parte di Claudio Ranieri nei confronti di Gigi Simoni buonasera a tutti devo dire che sono molto onorato di ricevere questo questo premio gentleman dell'anno onorato per due cose uno sono stato votato da miei colleghi e questo fa sempre piacere due perché intitolata a Gigi Simoni un allenatore veramente un gentleman un grande allenatore io l'ho conosciuto tantissimi anni fa al mio debutto in Serie A con la Roma venimmo a Genova era il 4 novembre del 73 perdemmo 2 a 1 io marcai primo tempo Corradi che fece gol il secondo tempo Gigi che fece gol anche lui per cui il mio esordio in Serie A fu bagnato molto bene c'è un qualcosa di bello quando quando dei colleghi ti votano c'è una soddisfazione immensa essere votato come gentleman significa che che non è soltanto quello che tu fai sul campo ma è come tu ti rifletti sulla stampa sui media sappiamo che facciamo un lavoro difficilissimo ma proprio perché è difficile e poi entriamo nelle case di migliaia di milioni di persone dobbiamo cercare sempre di stemperare e parlare non soltanto ai nostri tifosi ma ai tifosi di tutte le squadre per cui io cerco sempre di essere il più obiettivo possibile quando mi riesce perché dall'altra parte c'è anche il tifoso della squadra avversaria e se la squadra avversaria ti ha battuto ha giocato meglio e tutto mi sembra doveroso riconoscerlo e riconoscerlo soprattutto ai tifosi avversari questo è stato sempre quello che mi ha portato a fare durante le mie interviste alla stampa e alla televisione bellissimo ricordo di Gigi Simoni non so se per lui visto che di fatto il suo esordio non è stato poi così così fortunato nel doverlo marcare ma visto che Ranieri è stato votato dagli allenatori della Serie B direi che Massimo sia giusto chiedergli se c'è una squadra che l'ha colpito per gioco per carattere il campionato di Serie B è sempre affascinante difficile combattuto la squadra che più mi ha impressionato è normale io credo che la vittoria certifica la qualità e tutto per cui l'Empoli onore all'Empoli ma anche onore e bocca al lupo a tutte le squadre che stanno lottando sia per salire e sia per non retrocedere. Mettiamo un attimo da parte la Serie B e chiediamo a Ranieri come giudica la stagione della Sampdoria. La stagione della mia Sampdoria devo dire che è stata super positiva perché non sapevamo all'inizio l'anno scorso ho preso la squadra eravamo ultimi in classifica c'era lo spettro della retrocessione i ragazzi hanno lottato veramente contro tutto il fatto del covid che l'abbiamo passato tutti quanti noi ha fatto sì che la squadra si cementasse ancora di più hanno lavorato tantissimo durante il lockdown a casa gli davamo dei programmi e tutto e quando è ripartito il campionato la squadra si è subito ritrovata e quest'anno è stato veramente un campionato difficile ma siamo riusciti sempre a stare fuori dalla mischia della retrocessione era quello che il presidente chiedeva e sono soddisfatto insieme ai ragazzi di averlo portato a terra. Obiettivo dunque raggiunto da parte di Ranieri della Sampdoria lo ringraziamo